God save the wine a Bologna per scoprire l'abbinamento del secolo questo champagne e mortadella che sembra un po' un affronto in realtà è una cosa molto bella siamo qui con Champagne de Moselle a cui ho un ricordo bello, legato perché quando ho fatto la finale a Bastard del Champagne ero proprio con quella bellissima struttura che ospita, che funge da casa ma raccontaci qualcosa questa c'era, abbiamo in degustazione due tipologie di Champagne in uno specifico una bottiglia più romana in questo momento è un Chardonnay al 100% quindi il classico uvaggio per lo Chardonnay è un po' più tipico un tipico Champagne nella zona di Reims nel sud di Reims intanto si ragiona meglio esattamente quindi va nel bancho ma in profumi agrumati molto leggeri delicati tipi classico anche non so da mortadella proprio da aperitivo anche tutto pasto secondo me questo è tipico beh si diciamo che non ha nemmeno non è proprio leggerissimo una certa struttura ce l'ha discretamente persistente è anche una bella poca e anche il corpo effetti non è proprio il peso del genio esattamente per quello può e riesce anche a gestire e a sopportare un pranzo ovviamente un pasto non trovo un pochino esattamente invece appunto poi Rosè l'abbinamento con la Montadella viene ancora meglio però mi sta in colore Rosè con Rosè ecco questo a differenza del precedente che era uno chardonnay al 100% e invece è una Cuvè di Pinot Noir e Pinot Noir o tutti Pinot Noir è un vitigno in Francia più conosciuto più vinificato il tempo è questo ok quindi un colore un colore molto accattivante molto accattivante molto elegante anche la bottiglia si ricercata vedete la bottiglia già anche questa ha un suono il profumo direi un Rosè classico noto di lampone fragola di bosco che non che non spiazzano anche in bocca direi che si adatta per i tipi non è aggressivo è molto delicato molto dolce quindi posso portare secondo me personalmente anche si adatta personalmente bene mi piace la pesce oppure anche come dessert perché c'è un leggerissimo non è dolce però avete un'idea di dolcezza da solitare fine pasto secondo me con un un richiamo un richiamo di cos'è un richiamo di cos'è solo vuol dire che possiamo fare un'altra notte grazie